di Napoli, di Napoli che ha vinto i giochi del Mediterraneo nel 91, siamo all'ultimo giro andatura velocizzata 1.01 e dunque adesso si decide tutto negli ultimi 300 metri ancora a folto gruppo, attenzione a Hakimi che si fa vedere in seconda posizione, eccolo, col 4.60, col 3.50 c'è Driss Masusi il francese Michel Damion Giocondi e Pegoretti, prova il cambio di ritmo lo spagnolo Garzia e adesso Masusi, Hakimi scompaiono un po' gli italiani, scivolano verso il settimo ottavo posto Masusi, attenzione a Branco Zorco, Masusi e Branco Zorco perdono qualcosa dietro lo spagnolo, prova ad infilarsi Pegoretti mentre Giocondi si è fermato Masusi, Zorco e Carlo Scartia, questo è il finale 3.44 gara molto tattica e Giocondi si è fermato a 1.435 metri Grazie a tutti Grazie a tutti